Attila, noto anche come flagello di Dio, fu uno dei più temuti e potenti leader barbari della storia. Nato intorno al 416, Attila divenne il re degli Unni nel 434 dc e iniziò a consolidare il suo potere e a espandere il suo regno. Gli Unni erano un popolo nomade dell'Asia centrale, noto per la loro abilità nella guerra e nella cavalleria. Attila riuscì a unire le tribù degli Unni sotto il suo comando e a creare un vasto impero che si estendeva dalla Russia occidentale all'Europa orientale. La fama di Attila come conquistatore raggiunse il suo apice quando decise di invadere l'impero romano d'Occidente. Nel 452 dc, guidò un'enorme armata di Unni e alleati barbari attraverso le Alpi e invase l'Italia settentrionale. Durante la sua campagna in Italia, Attila saccheggiò e distrusse numerose città, tra cui Aquileia, Padova e Milano. La sua avanzata spaventò l'intera penisola italiana e molti si arresero senza combattere. L'obiettivo principale di Attila era la città di Roma, ma fu dissuaso dal papa Leone I, che si recò personalmente da lui per negoziare la pace. Nonostante la tregua con Roma, Attila continuò a saccheggiare altre città italiane, come Verona e Mantova. Tuttavia, la sua avanzata fu fermata quando l'esercito romano guidato da Flavio Ezio sconfisse gli Unni nella battaglia dei campi catalaunici nel 451 dc. Dopo la sconfitta, Attila si ritirò dall'Italia e si concentrò su altre campagne militari. Nel 452 dc, invase la Gallia, ma fu nuovamente sconfitto dall'esercito romano e dai suoi alleati. Questa sconfitta segnò l'inizio del declino del potere di Attila. Nel 453 dc, Attila morì improvvisamente nel suo palazzo a Pannonia, l'attuale Ungheria. La causa della sua morte è ancora oggetto di dibattito tra gli storici, ma si pensa che sia morto per una emorragia interna dopo una notte di festeggiamenti. Dopo la morte di Attila, l'impero degli Unni si disintegrò rapidamente e il suo impero fu diviso tra i suoi figli. La minaccia degli Unni diminuì notevolmente e l'Europa pote rispirare di nuovo. Nonostante la sua fama di crudele e spietato, Attila è rimasto una figura leggendaria nella storia. La sua invasione dell'Italia e le sue campagne militari hanno lasciato un segno indelebile nella memoria collettiva. La sua figura è stata oggetto di numerose opere letterarie e artistiche, che lo ritraggono come un temibile guerriero e un leader carismatico. In conclusione, Attila, capo del popolo barbaro degli Unni, è stato uno dei più grandi conquistatori della storia. La sua invasione dell'Italia ha causato distruzione e terrore, ma alla fine è stato sconfitto, e il suo impero è crollato. La sua figura rimane un simbolo di potere e di paura, e la sua storia continua a suscitare interesse e il fascino.